Quindi la Lazio torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e ci sta, ha meritato sicuramente la vittoria oggi in casa contro la Fiorentina, un 1-0 che però è deludente come risultato ma è stata deludente anche la partita proprio sul piano del gioco. Io sinceramente ho scelto di guardare oggi Lazio-Fiorentina, di farvi il post partita rispetto ad altre partite e chi me l'ha fatto fare ragazzi? Mi sono perso il Milan che ha vinto 3-1, 4 gol in Milan-Chievo ma chi se ne aspettava? E due di Gonzalo, ah Gonzalo, Gonzalo, vabbè quindi scelta sbagliata, deludente anche la mia in effetti e quindi siamo qui a commentare uno streamingzito 1-0. Ripeto, mi si è rispettato molto di più sul piano del gioco da parte di entrambe le squadre. La Lazio sicuramente ha avuto idee più chiare, ha manifestato idee più chiare più che altro dalla metà campo in avanti, neanche tantissimo va detto perché comunque tanti errori da una parte e dall'altra però la Lazio mi è sembrata una squadra che più della Fiorentina è stata capace di mettere palla a terra, ragionare e fare degli scambi fatti bene, precisi, intelligenti. La Fiorentina non ha trovato gli spazi, ha faticato a trovare gli spazi nonostante la Lazio in difesa non sia assolutamente nulla di straordinario e abbia concesso molti brividi alla sua tifoseria oggi e si è visto. Lo stadio tra l'altro molto partecipe di questa partita soprattutto con i fischi o comunque le urla di disapprovazione nei confronti di Orsato che ha fatto una direzione quasi eccellente direi, ha arbitrato leggermente all'inglese eppure in una partita che è stata molto fisica e molto molto combattuta ma decisioni particolarmente sbagliate non ce ne sono. A parte quell'episodio lì del possibile rigore ma per la Fiorentina perché era l'intervento di Acerbi su cui però il VAR nulla ha potuto e quindi si è andato avanti così ma sarebbe stato appunto rigore per la Fiorentina. Per quanto riguarda appunto la Fiorentina direi che è una battuta di arresto questa sconfitta. La Lazio ritorna al trend positivo con tante vittorie di fila che aveva fatto dopo un inizio negativo in questo campionato cioè dopo la sconfitta contro la Juve aveva vinto diverse partite poi ha perso il derby di sabato scorso e ha perso in infrasettimanale in Europa League adesso appunto si è ripresa e forse riprenderà questo trend ma bisognerà vedere dopo la sosta. La Fiorentina invece che era davanti alla Lazio di pochi punti adesso si trova con un punto in meno con un punto dietro alla Lazio forse ha interrotto un trend positivo e quindi diciamo dalle due parti diametralmente opposte sono le interpretazioni diametralmente opposte dicevo la Lazio si riprende la Fiorentina si ferma. Ma anche sul piano del gioco la Fiorentina è stata deludente ripeto non è riuscita a trovare gli spazi ma non ha avuto neanche delle idee molto chiare su come trovarli. Veramente grande difficoltà a trovarsi e a ragionare insieme palla al piede tra gli attaccanti. Piazza che a me piace tantissimo da Juventino e che volevo ammirare in questa partita ha deluso invece ma non vorrei neanche dargli troppo addosso perché sinceramente ho visto che Pioli lo ha fatto giocare anche con ripiegamenti difensivi e a un certo punto Piazza ha dovuto chiudere come un terzino quindi probabilmente ha giocato un pochino fuori ruolo e chissà che non sia una costante dell'interpretazione tattica che Pioli vuole da Piazza però in generale Piazza, Simeone e Chiesa si sono cercati e trovati veramente molto male. Poi piccola parentesi non so se Pioli dice a Chiesa che deve migliorare sul piano dell'altruismo ma spero che glielo dica perché quando verso la fine con la Fiorentina arrembante che ha provato ma in realtà era troppo tardi a riagguantare almeno il pareggio Chiesa ha dribblato un difensore della Lazio in una situazione a difesa schierata molto molto rischiosa lì se sbagli il dribbling la Lazio può fare la ripartenza quindi pochi giocatori avrebbero avuto il coraggio e la precisione tecnica di fare quello che ha fatto Chiesa, grandi applausi per lui poi però lì devi scaricare sull'esterno al tuo compagno che è totalmente libero che mette dentro il cross e magari vai anche tu nell'area a ricevere l'eventuale cross del compagno invece lui è tornato indietro, si è accentrato e ha tirato debolmente tra le mani di Stracoscia anche perché era stanco con tre o quattro compagni di squadra ad aspettare un possibile cross in area lì bisogna incazzarsi se sei l'allenatore di un ragazzo che fa questo perché Chiesa è uno dei nostri talenti più cristallini senza alcun dubbio che è talenti più puri e quindi per il bene di Chiesa perché il bene della Fiorentina da parte di Pioli ma anche per il bene del calcio italiano sarebbe bene far capire queste cose appunto a Federico Chiesa finché sia in tempo la partita quindi viene decisa da una deviazione, da una spizzata di piede di Ciro Immobile che non manca mai all'appuntamento quando serve e ha fatto anche altre cose abbastanza interessanti in questa partita sebbene non si sia poi reso particolarmente pericoloso in molte altre occasioni insomma alla fine della partita era da pochi gol tutto sommato nonostante le occasioni da parte dall'altra, gli errori da una parte dall'altra però non è stata assolutamente una bella partita, ripeto non una partita di cartello da Serie A paradossalmente è stata più bella, immagino Milan-Chievo dove si sono visti ben quattro gol e nessuno ci avrebbe scommesso nulla probabilmente quindi questo era il mio commento, vi ringrazio per la visione spero che continuerete a seguirmi anche nei miei post partita noi juventini mi piace comunque parlare di calcio, vedo che vi piace sentire parlare di calcio quindi ogni tanto quando ho tempo guardo una partita che non è della Juve e poi faccio il mio post partita credo soddisfazione sicuramente da parte quindi dei tifosi della Lazio meno ma neanche troppa insoddisfazione da parte dei tifosi della Fiorentina che comunque hanno visto una squadra che ha provato quantomeno a pareggiare non è uscita proprio dal campo senza aver giocato anche se bisogna migliorare sotto molti aspetti ditemi la vostra, ci vediamo presto e sempre Forza Juve